Per Basir Rafik, 36 anni, tunisino, residente a Ribera, sabato notte si sono aperte le porte del carcere di Sciacca. L'uomo era già agli arresti domiciliari per oltraggio, resistenza e minaccia pubblico ufficiale, ma adesso deve rispondere anche della grave accusa di tentata violenza sessuale nei confronti di una giovane riberese con la quale avrebbe avuto una relazione sentimentale. I fatti si sono verificati sabato sera. I carabinieri della tenenza di Ribera erano impegnati in un servizio di controllo del territorio e una delle pattuglie, transitando nella zona dove risiede il tunisino, ha notato qualcosa di strano al balcone della sua abitazione, dove in quel momento si trovavano l'uomo e la giovane. Sono intervenuti ed è venuto fuori che il 36enne avrebbe tentato di usare violenza sessuale nei confronti della donna, che è stata immediatamente portata al pronto soccorso dell'ospedale Fratelli Parlapiano, dove le sono state riscontrate delle lesioni, giudicate comunque guaribili, nel giro di pochi giorni. Nel frattempo il tunisino, nonostante fosse agli arresti domiciliari, si era diretto verso l'abitazione della giovane, facendo scattare il reato di evasione. È stato bloccato dai carabinieri, portato in caserma e successivamente, nel corso della notte, è stato rinchiuso nel carcere di Sciacca. Le indagini vanno avanti e in giornata probabilmente i carabinieri torneranno a sentire la giovane donna per ricostruire quanto stava accadendo all'interno dell'abitazione del tunisino sabato sera, prima dell'intervento dei militari dell'arma. L'uomo era agli arresti domiciliari dallo scorso mese di maggio, quando aveva tentato di aggredire i carabinieri che stavano effettuando un controllo all'interno di un locale pubblico di Ribera, controllo che aveva poi portato al sequestro di una pistola calibro 38 di 6 munizioni all'arresto del gestore del bar, ma il tunisino non aveva avuto nulla a che fare con questa vicenda. Era entrato nel locale durante la perquisizione ed aveva avuto un acceso diverbio con i militari impegnati nel servizio.